La Sicilia divisa in più parti. È questa l'immagine della nostra isola nel 2015, che potremmo definire l'annus orribilis per le infrastrutture, con crolli di viadotti e frane tra le varie città. Già dai primi giorni del 2015 la Sicilia si trovava interrotta a causa del crollo del viadotto di Scorciavacche, che collegava Palermo ad Agrigento. E ancora, a maggio il crollo del viadotto Emera, che interrompe i collegamenti tra Catania e Palermo, causando numerosi disagi. Ad ottobre, come se non bastasse, una frana tra Giardini e Roccalumera spezza la Messina a Catania. La Sicilia quest'anno è tornata all'undicesimo secolo, quando era divisa in tre valli, anzi, oggi anche più di tre valli. Non sono bastate le petizioni e le proteste dei lavoratori, sono stati promessi finanziamenti e investimenti sulle infrastrutture. Ma la situazione quando cambierà realmente? I siciliani sono ancora bloccati. Solo pochi giorni fa è stata demolita la carreggiata in direzione Catania del viadotto Emera. L'immagine del viadotto che si sgretola è anche l'immagine della Sicilia.